Amici di Tennis Italiano, oggi proviamo la Babolat Pure Drive Team. Babolat Pure Drive Team è la sorellina minore di Babolat Pure Drive. Ha le stesse caratteristiche, profilo, piattocorde da 100 pollici quadrati, ma 15 grammi di peso in meno. Senza l'incordatura pesa infatti 285 grammi. È comunque una racchetta agonistica, profilata, quindi potente. Anche abbastanza leggera, quindi si riesce a spingere un po' da tutte le zone di campo. Si colpisce bene e anche con controllo la palla piatta o con una rotazione in top appena accennata. È una racchetta perfetta per spingere a fondo campo, soprattutto per dei giovani agonisti o delle giocatrici anche di livello alto, diciamo per chi fisicamente ha bisogno di un po' d'aiuto in termini di spinta. È una racchetta che si distingue assolutamente per la sua maneggevolezza. Nonostante i 15 grammi di peso in meno, ha un bilanciamento comunque senza incordatura a 32 centimetri. Quindi in mano si sente davvero leggera e molto comoda. Direi che è una racchetta senza troppi alti e bassi. Riesce bene un po' tutto, per esempio anche i tagli in back con un discreto controllo. Non bisogna pretendere né eccessiva potenza e né un controllo chirurgico e troppa precisione. Come in tutte le altre zone di campo, anche a rete è una racchetta facile. Si sente l'ottima maneggevolezza, è stabile e sicura. Anche nei colpi sopra la testa è una racchetta che fa sentire l'ottima maneggevolezza. Si muove veloce e si sente in positivo, soprattutto nella velocità delle prime palle piatte. Sono discretamente precise anche le soluzioni in slice. Babolat Pure Drive Team, una racchetta agonistica poco più leggera di Babolat Pure Drive, quindi perfetta per dei giovani agonisti o delle ragazze anche di livello alto e per tutta una serie di giocatori intermedi di club che potrebbero approfittare di una maneggevolezza nettamente sopra la categoria. Amici di Tennis Italiano, che vinciamo, che perdiamo, la racchetta sempre in mano.